I profili di illiceità messi in evidenza dall'accusa non reggono alle risultanze istruttorie. Un concetto chiaro e conciso che il giudice Rossana Villani, estensore delle motivazioni della sentenza sulla cosiddetta rifiutopoli abruzzese, ribadisce a più riprese per spiegare in una cinquantina di pagine perché l'ex assessore regionale della sanità, Lanfranco Venturoni, l'imprenditore Rodolfo Dizio, il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, l'imprenditore Ferdinando Ettore Dizio e l'ex amministratore delegato della Teramo Ambiente Vittorio Cardarella sono stati assolti tre mesi fa dal tribunale collegiale, presieduto da Angelo Zaccagnini. L'inchiesta dei PM a Narita Mantini e Genaro Varone ruotava attorno alla realizzazione dell'impianto di bioessicazione a Teramo. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta, millantato credito. Nello specifico, il tribunale ritiene che gli elementi di carattere sospetto costituiti dalle mail e dal contenuto delle intercettazioni non sono sufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato pur disvelando le mire espansionistiche di Deco Rodolfo Dizio. Per quanto riguarda i finanziamenti di Dizio al partito cui apparteneva Venturoni, il collegio sottolinea che dal complessivo quadro delle risultanze istruttorie non emerge la prova di versamenti irregolari né di contributi elettorali che risultino con ragionevole certezza contropartita di accordi di natura corruttiva. Giudizio perentorio anche sulle presunte pressioni che in cambio di contributi elettorali sarebbero state esercitate dal parlamentare Di Stefano per esautorare Riccardo Lamorgia dalla presidenza del consorzio dei rifiuti Lanciano. I giudici sostengono che le complessive risultanze istruttorie sono tali da non rendere condivisibile la ricostruzione del PM. Sulle presunte pressioni di Di Stefano per la modifica della legge necessaria per consentire la costruzione dell'inceneditore il Tribunale afferma, appare chiaro che se di pressioni si può parlare esse non sembrano idonee a configurare oggetto di scambio corruttivo. In ogni caso, si legge nelle motivazioni, lo scambio corruttivo formulato nel capo di imputazione non è lineare e plausibile in quanto non era nei poteri di Di Stefano incidere sulla modifica della legge regionale da demandare necessariamente al Consiglio regionale in quanto prerogativa consigliare.